Le strade che sta percorrendo Mercedes verso la mobilità di oggi e del futuro sono fondamentalmente quattro. Quindi la prima strada è quella diciamo del futuro, quindi le automobili elettriche. La seconda strada è quella dello sviluppo delle motorizzazioni ibride. Terza strada fondamentale, importante è quella dello sviluppo dei motori endotermici. La quarta strada è quella della condivisione, del car sharing, di car to go, di MyTaxi. Oltre a questo che diciamo è la nostra strategia, abbiamo voluto fare un'azione tattica. Che cosa significa? Se voi state guidando una macchina fino a Euro 4, fate il salto presso una delle nostre concessionarie. C'è un eco bonus che vi dà Mercedes e vi dà 2400 euro. Se permutate una macchina di qualsiasi marca, fino a Euro 4, da Euro 1 a Euro 4 o 1200 euro se permutate per prendere una smart elettrica. Ma sappiate che questo incentivo ce l'avete soltanto fino al 30 dicembre, perché oltre questa data scadrà e non sarà più possibile averlo.